In attesa degli interrogatori di garanzia, i primi sono previsti lunedì, gli avvocati della difesa cominciano a delineare le prime strategie per smontare quelle accuse che oltre a far leva sulle immagini che hanno fatto il Giro d'Italia si basano anche su intercettazioni telefoniche ritenute particolarmente scottanti. I legali hanno già chiesto l'acquisizione dei filmati integrali girati all'interno di Villa Flora. Per avere un'idea più precisa non basta qualche spezzone, sono necessarie le sequenze complete, ha detto Franco Mastronardi, uno degli avvocati di Franco Rossi, titolare della struttura di Montaquila e sindaco del paese. Il legale Sernino ha inoltre spiegato che il risalto dato da alcuni programmi televisivi nazionali alla morte di un ospite di Villa Flora, avvenuta in ospedale, è stato fuori luogo. Per quella vicenda, ha detto Mastronardi, il dottor Rossi era stato prosciolto già nella fase istruttoria, non si era cioè nemmeno arrivati al processo. Oltre che dal legale Sernino, il titolare della residenza assistenziale difeso da Marco Franco del Foro di Roma, mentre a sorpresa si è registrata la clamorosa rinuncia da parte dell'avvocato Arturo Messere. Ringrazio il dottor Franco Rossi per la fiducia accordata a mi, essendo stato il primo ad essere nominato suo difensore. Ma purtroppo a seguito dei gravosi impegni che già avevo assunto, sono purtroppo costretto a rinunciare al mandato difensivo datomi da esso dottore Rossi, che ovviamente ringrazio proprio per la fiducia accordatomi. Nel frattempo la vicenda di Montaquila continua a far discutere non solo in tv o sui social network, ma anche a livello politico. Il deputato del PD Elena Carnevali ha presentato un'interrogazione al ministro della salute Beatrice Lorenzin, sottoscritta anche dal parlamentare molisano Laura Venitelli, che oltre a complimentarsi con gli inquirenti ha espresso solidarietà ai pazienti. Mentre Tiziano Di Clemente, responsabile del Partito Comunista dei Lavoratori, punta il dito contro la privatizzazione della sanità. Il profitto, ha detto, è incompatibile con la salute delle persone.